ciao ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video oggi giocheremo a un gioco che si chiama comunque è un gioco molto bella i miei progetti si sono solo due camera allora mi faccio una bella no no il wifi allora devo mettere il wifi rimuovi comunque dobbiamo andare ok non lagga più no non lagga più ok si è caricato tutto comunque ragazzi ok questo è bello questo lo devo buttare però non so come si butta ragazzi sto facendo un casino scusate ragazzi se non sto facendo altri video e però perché no non mi piace oh mi sto così mi tolgo gli occhi ragazzi ok così come no brutto così è meglio così è meglio grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti Winkies. Ok, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate like, iscrivetevi al canale e commentate qua nei commenti. Spero che vi sia piaciuto e ciao.